Oh, zitto! Oh, bella romanista, che sul pantone ha la vista! Ma che dire del Pasello? Sto parlando di Castello. Che lì c'è t'affacci da una parte di piano storso, perché sta nel rione corso. Dall'altra parte non si sbaglia, perché c'è la buca di paglia. Mi ricordo di quando eri piccoletta che il mattino giravi in bicicletta. Adesso la questione ne è cambiata. Quando sono le 8, già si alzano. E passi per Castello e Castellesi. Desta novità sono tutti presi. Si sentono tutti forti e azzilli. Mica sempre se vedono passata la società feriti. Ti ricordi quando da Roma sei venuta con Puffetta? Quattro ore, ma con bicicletta. La domanda mi sorge all'improvviso. Ma siamo tanti che siamo desto avviso. Non è che c'è qualche parente sollevante, perché di foto ne fa proprio mai. Facebook. 1981 foto di vanità. Ma per vedere tutte ci vuole l'eternità. E ora con la bicicletta in giro ci puoi andare. Basta che va piano e non ti va a scudozzare. E se ti fai questo tletichino, ce lo puoi dire, siamo tra amici. E va a sto se lì. E ora che stanno a salire queste belle mine, dici un po' te andiamo a ammussarsi i trenta gandini. Ahahahahah. Bellissima. Grazie. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito.